La vincenere della rivoluzione, uomini e donne di tutta Italia, italiani e amici dell'Italia, al di là dei monti e al di là dei mari, ascoltate il maresciallo Badoglio, telegrafa. Oggi, 5 maggio, alle ore 17, alla testa delle frutte vittoriose, sono entrato in Adito Beba. Annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita. Al popolo italiano e al mondo che la pace è ristabilita. Non è senza emozione e senza piedezza che io, dopo sette mesi di aspre ostilità, pronuncio questa grande parola, ma è strettamente necessario che io aggiunga che si tratta della nostra pace, della pace romana, che si esprime in questa semplice, irrevocabile, definitiva proposizione, l'Etioppia è italiana!